La nascita della tragedia in un certo senso è anche il racconto di una doppia vita ed è il racconto di due istanze che poi entrano dentro al testo. Di cosa parla la nascita della tragedia? La nascita della tragedia è una teoria che cerca di smontare l'immagine canonizzata della classicità del mondo greco che lui stesso come professore di filologia doveva insegnare ai suoi allievi all'iceo e all'università e quindi queste immagini del mondo greco come compostezza, come fermezza, come tranquillità, dominio di sé, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che in fondo nel neoclassico ci viene insegnato da queste statue bianche con gli occhi vuoti, molto composte, eccetera, infatti non sembra neanche tanto classico lao conte, c'era stato tutto questo dibattito perché si muove scompostamente lui e i suoi figli presi da questi serpenti. Però in effetti se noi andiamo a guardare come erano le statue del mondo greco ci rendiamo conto che originariamente erano policrome, pieni di colori, abbastanza disneyane come immagine e quindi questo contraddirebbe questa nostra immagine del classico. Nietzsche è come se cercasse di trasferire all'interno dell'opera classica per eccellenza la tragedia questa maniera di smontare le cose, di far vedere che sotto questa patina di fermezza, di ragionamento, di compostezza, di dominio di sé, quello che fa sì che appunto quelli che sono destinati a diventare preti devono studiare il greco e il latino, sotto tutto questo c'è in realtà qualcosa di terrificante, di tellurico, di sconvolgente, qualcosa come quello che ha cercato di fare Freud, che farà di lì a poco Freud con l'interpretazione dei sogni. I principi che operano in questo libro sono appunto due, l'Apollineo e il Dionisiaco. L'Apollineo sarebbe il momento formale del classico, così come c'è stato insegnato a scuola e come è stato insegnato a scuola anche in nostri tempi, non solo a quelli di Nietzsche, e cioè questa compostezza, questo dominio, il principio della ragione, i fondi greci sono stati gli inventori della geometria, della matematica, dell'astronomia e dunque sono persone ben ben razionali. E queste statue di Apollo che dal quinto secolo stanno lì tranquille, ferme, forti, sembrano rappresentare proprio questo dominio, però c'è un elemento che viene da un altro mondo, è il mondo orientale, Dioniso, questo dio che appunto è di origine orientale, arriva in Grecia e dice a Nietzsche guardate che è proprio in Dioniso che c'è l'origine del mondo greco, perché questa forma espressiva caratteristica del mondo greco che è la tragedia, altro non è che la trasformazione dei riti dionisiaci, i riti dionisiaci erano delle manifestazioni barbariche, c'era questo capro che veniva sgozzato e divorato durante una specie di orgia o di, diremmo così, una specie di rito tribale in cui veniva distrutto questo animale. Dice guardate che è dal rito dionisiaco che viene fuori il coro della tragedia, sapete che nelle tragedie c'è un coro che narra le peripezie dell'eroe e c'è prima il coro e solo dopo vengono i personaggi, poi entrano in primo piano i personaggi, quindi in un certo senso la tragedia comincia a diventare appollinea, alla fine i personaggi non solo parlano e esprimono dei sentimenti ma cominciano anche a ragionare, lì Nietzsche dice Socrate che fa morire la tragedia, perché alla fine questi personaggi diventano delle individualità molto razionali, molto logiche, appunto molto appolline e a questo punto la tragedia muore.